Non si arresta l'attività del governo siciliano finalizzata a esportare il brand dell'isola nel mondo. Saranno cinque le vetrine internazionali per i prodotti di eccellenza dell'enogastronomia nostrana. L'assessorato regionale dell'agricoltura ha approvato il programma di partecipazione alle fiere del 2023. Il bando sarà pubblicato domani sul sito istituzionale della regione siciliana. Questo è un avviso, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Luca San Martino, rivolto alle aziende agroalimentari che svolgono una funzione unica e insostituibile per l'economia dell'isola. La Sicilia è una regione altamente specializzata nell'agroalimentare di qualità e il sostegno all'attività di internazionalizzazione delle imprese è un obiettivo fondamentale per garantire competitività negli anni futuri. Nell'elenco delle fiere ci sono Solle Agri-Food a Verona dal 2 al 5 aprile per l'Orio Extravergine di Oliva, Mediterranea Expo Bio e Excellence a Catania dal 27 al 29 aprile per il settore agroalimentare, sia al China a Shanghai dal 18 al 20 maggio per il settore food and beverage, Summer Fancy Food a New York dal 25 al 27 giugno e a Colonia dal 7 all'11 ottobre per il settore agroalimentare. Le produzioni di eccellenza da promuovere in queste sedi sono quelle con valore ambientale, biologico, territoriale, dopo IGP, qualità sicura e tradizionale che differenziano e caratterizzano le produzioni in termini di qualità e di legami alla zona di produzione. Le aziende interessate dovranno compilare e spedire le istanze entro martedì 28 febbraio.